E' uno dei pesci d'acqua salata più popolari negli acquari marini. I pesci farfalla sono così chiamati perché contraddistinti da una livrea variopinta, con bande o macchie orizzontali, verticali o diagonali, simili a quelle che si possono osservare sulle ali delle farfalle. La bocca è generalmente protesa in avanti. A differenza di alcuni esemplari menzionati, il pesce farfalla non è una specie in pericolo. Vive nelle barriere coralline e di solito si sposta in coppia, tranne i più giovani che viaggiano in gruppo.